Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere anche dalla postazione, è un video un po' differente. Infatti, mi scuso per il ritardo, tra virgolette, perché il video per mercoledì era pronto, solo da caricare, ma il mio telefono c'è stato un temporale e gli ha fulminato la batteria. Infatti, questo non è il mio telefono, è quello che usiamo come modem. E il video che ho fatto sul mio telefono lo caricherò appena avrò una nuova batteria. Questo video è diverso, come ho detto, avevo già fatto un video dedicato alla Snap, anzi due video, uno in cui con mia madre vi mostravo i trucchi, l'altro in cui mi truccavo secondo le vostre scelte. Oggi siamo nella sala in cui mia madre fa le riunioni, io l'aiuto, abbiamo un po' di magazzino e tutte le cose riguardanti la Snap. Magazzino, fra virgolette, perché in realtà li usiamo noi, però è quello che usavamo noi. Quindi, adesso vi mostrerò questa sala dei volantini e dei prodotti. Ok, eccomi, qua ho preparato i primi che sono dedicati ai profumi. Allora, io inizio con i profumi proprio della Snap, che non troppo il cataloguino, però sono questo il formato normale che non lo apro perché è di mia madre, è di nuovo, questo è il 06, mai dire mai. E qua noi abbiamo i campioncini, che sono, cerco di tirarli anche fuori, mettete un profumo. Questo, vabbè, è ovviamente il campioncino che abbiamo noi, noi, poi vedrete, mia madre perché io lo aiuto solo, distributori che ci aiutano per le spolli. Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, no, dodici. Sono sia da uomo che da donna, ci sono quasi tutti quelli da donna, sono ispirati più all'amore, infatti, igiena di cuore, lettera d'amore, vabbè, e tantissimi altri, che sono proprio i nostri profumi. Il pezzo, se me lo ricordo, lo metto sotto, ma intanto, come sempre, metto sotto il link diretto per contrarli. Poi ci sono i profumi ispirati, che quindi, ovviamente, ispirati, dice il nome, da questo arrivano, sono per uomo e per donna, sono ovviamente ispirati, questi, questa, ok, questa è la coppia di Absolute Per Wah, che è il 213, coppia, ispirato, questo è quello grande che arriva, ho anche l'intero boss di campioncini, ma non li trovo più, perché in sto periodo facciamo un sacco di mercatini, e quindi qualche scatola, sono tantissimi, e diciamo che sono quelli che vanno di più. Come abbiamo già scritto, scriviamo sempre qua, sono con il 20% di essenza, sono 50 ml di profumo, a 24 euro, poi c'è la spedizione, che serve 6 euro, ma non è sempre così, perché tipo, chi abita vicino, in provincia di Torino, o va al mercatino, poi dice, mia madre li ordina tutti insieme, li consegna a casa, a casa, la persona, quindi li aiutiamo, anche se no, c'è il cliente con spedizione, ma poi se compi altro, lo superi facilmente, faccio invece per tutto. Poi ci sono i profumi, ma per l'ambiente, questi sono quelli, viaggio in Toscana, non si è di niente, sono questi, i nostri campioncini, tipo questo è il plato fiorito, non si è di niente, e sono questi, però sono solo campioncini, infatti, quello che arriva a voi, è così, ed è quindi molto, molto più grande. Poi, di questo, tu hai dovuto vedere, campioncini, grande, cosa, ci sono tutti, questi sono ispirati a Toscana, perché la nostra base è Toscana, Pisa, e quindi il direttore toscano, ha deciso di fare così, ci sono tutte le informazioni, tipo quanto va messo, e questi sono solo i profumi. Ok, adesso, sto meglio cambiare postazione, perché mi sta rompendo sta luce, eccoci, molto meglio, questo è lo strumento che mia madre usa, per spiegare l'azienda, ma vabbè, poi vorrei farvi notare, oltre a tutti i prodotti, questo catalogo, che è noto Future, esempio, della Snap, in cui, ci sono tutte le storie, dai, gli smeraldi, mi sembra, o dai rubini, addirittura, di tutte le persone, che, ecco, da Rubino, c'è Supervisore, vabbè, Distributore, Supervisore, Zaffero, Rubino, Smeraldo, Diamanti, Diamante Black, e poi gli altri due, questo, questi vecchi, del dicembre 2018, ci sono tutte le storie, e alcune sono davvero incredibili, e rappresenta che queste cose sono reali, e accadono sul serio, poi noi abbiamo anche quelli più nuovi, ma vabbè. Andiamo avanti, i prodotti, sempre guardanti la bellezza, sono i Cosmet Care, cioè, vabbè, il Beauty, alla fine c'è di tutto, c'è la linea per capelli, che andiamo in odio, vabbè, Beauty Dream, che è un dispositivo, anche, che è un dispositivo apposta, per la pelle, che ce ne sono due, uno più solo per la faccia, l'altro solo per il corpo, che mi serve, perché mi sto cercando, bene, che è questo, poi noi c'è, questa è la macchinetta, che ha diverse regolarizzazioni, per distendere la pelle, scaldarla, aumentare la circolazione, e insieme ci sono due creme, quella per il corpo, e quella per la faccia, prima mazza usa, e più c'è quello più piccolo, apposta specialmente per gli occhi, e la faccia, che noi non abbiamo ancora, poi andando sempre su sta linea, che se le ritrovo le note, ok, c'è la linea viso, in cui ci sono, diverse cose, adesso io non le ho tutte, uno scabbe, quello dorato, con camera mia, ecco, poi c'è questa, che è la crema viso anti-age, il serocontorno occhi e labbra, che si può notare, quanto è stato usato, il latte detergente, il gel alloidratante, il tonico, che anche questo è tutto usato, perché sono quelle cose, che usa mia madre, o per fare i beauty party, poi questo, che è la scabbe oro, e tantissime altre cose, che non ho tutte qua, in più, ci sono questi che, io non ce l'ho, ma scrivermi nelle mail, ovviamente per chi è, nella zona di Torino, almeno con mia madre, nella zona di Torino, poi ce ne sono in tutta Italia, che però, cioè io lo faccio per mia madre, serve per fare delle prove, delle creme, che facciamo un po' più beauty party, poi vabbè, c'è la linea corpo, che era in mezzo a questi, che non so dov'è in realtà, la linea capelli, che questo tutto c'è, no, questo è il bagno dolce, vabbè, che è la linea corpo, enorme, poi ci sono, il beauty snap, che questo è la, il balsamo, che è una maschera per i capelli, anche, questo è sempre il balsamo, poi, aiuto, io mi sono lontani, ci abbiamo uno shampoo, un bagno doccia, di nuovo, e l'ultimo, che sto mettendo a posto, sono le sfede, che è una lezione, anticaluta, apposta per i capelli, in più, come vedete, i packaging sono stra carini, e, riflettono un po', poi, vabbè, abbiamo anche le linee solari, e poi, abbiamo qua, la parte italiana, l'indice, e qua, lo stesso indice, ma in inglese, quando andavanti, che io non ce l'ho qua, ma avete già visto, le sun care, cioè, protezioni solari, che c'è quella a 12 ore, questa è per dopo la bronzatura, e poi c'è la mia, che dovrebbe essere, la mia, troppo grande, poi c'è questa, con io 50, per il sole, c'è la sun care 4, per la protezione, quella a 12, e poi c'è questo, che non ci abbiamo, questo qua grande, cioè, che io non ho, vabbè, serve per, sempre la protezione solare, ovviamente, sempre sulla linea beauty, in cui ho già fatto i video, le ulteriori make up, quindi tutte le cose, che avevo già fatto vedere, nei video, ma singole, poi qua non credo, perché questo, credo abbastanza vecchio, infatti, non ci sono ancora, neanche le novità, che sono uscite, tipo la matita, coloravoglio, poi sulla pulizia, ma non del corpo della casa, è questo nuovo prodotto, BFT, che costa 0,39 al litro, diluito, cioè di prodotto utilizzabile, infatti, di questo, devi metterne 10 ml, 750 ml di acqua, e ti pulisce casa, e, questo, ce va bene, tutti i segnini, c'è la quantità, devo usarlo, che ha diversi effetti, va bene anche per gli animali, per le pulce, ad esempio, non lo usiamo sul nostro cane, poi sul giardino, per i palassiti, e poi sono, sono ovviamente, sempre cose non chimiche, quindi, vanno bene anche per chi ha bambini in casa, tipo, quando vado da mio padre, poi, sulla corpo, sempre il corpo, ma da indossare, sui vestiti, che questi sono alcuni, c'è maglia da uomo, cannottiera da donna, sciarpa, poi c'è la ginocchiera, i pantaloni, eccetera, eccetera, che io ho anche qua, tipo, qua c'è la cannottiera, e questo è di mia madre, ovviamente, sempre, qua ci sono i pantaloni, gli al-sharp, c'è il mio fratello, in questo momento, perché si è fatto male, serve per agli eviare dolori, gli infiammazioni, dietro non c'è scritto, poi attivo sulla cellulita, antidolorifico, migliori prestazioni sportive, senza contraindicazioni, infatti, ci sono anche dei personaggi anziani, di nostri subitrici, che lo usano, e hanno notato la differenza. Adesso facciamo all'ingerie, che è il caffè, ovviamente, poi se lo volete sotto, mi dite cosa volete, un video più approfondito, e ci sarà mia madre, che è un po' di più esperta, vabbè, qua c'è il nostro presidente, bla bla bla, allora, sono tanti tipi, c'è il cappuccino, il caffè alto, e vanno bene per qualsiasi macchinetta, non perché sia universale, ma perché ce ne sono di diversi tipi, ad esempio, noi abbiamo ordinato, quelli per la macchinetta blu, della razza, se non sbaglio, perché, si può scegliere, ad esempio, ecco qua c'è scritto, c'è il caffè, è un caffè con un estratto di un fungo, che fa sempre bene, poi ci sono, per quelle compatibili, con la razza a modo mio, la razza a blu, poi quella point, il Nespresso, e poi c'è anche la cialda, 44 mm, calda in carattina di riso, quindi si adatta a moltissime macchine, e sono patti così, come le moderne, che noi utilizziamo per la casa vacanza, che stiamo aprendo. ok, prima di andare a vedere l'ultimo ricorso, faccio adesso il cartellone, con così quattro io, tipo questa, la collezione piavera, per notare per la valutazione canite, anche questo mi metterò sotto, perché è mia madre, e ci sono tutte le decorazioni, anche qua sotto, che non si vede, la valutazione canodermio, e adesso andiamo alla stazione, dall'altra parte. ok, eccoci qua, dove abbiamo visto prima, allora adesso vi faccio un esempio, di proprio da mangiare, che abbiamo la crema catalana, la panna cotta, la bavarese, con arance e cannella, sono tutte facili, perché si mette solo il latte, e per la crema catalana anche l'uovo, in un frullatore, si attiva, e poi in un'oretta due in frigo, e sono già pronte, e fanno meno male rispetto alle altre, qua c'è il magic, no, è il mio cane, cioè, è un giocatore per vero, qua c'è tipo, lo smerch plus al cappuccino, e c'è lo stesso, sono i campioncini, che sono anche a vaniglia, al cioccolato, altro di questi, che anche qua ci sono le versioni, questo è un frullato, sostitutivo del pasto, più che altro, ho detto giusto, ok, questo ad esempio è crema al biscotto, ci sono questi piccoli, e si riscontra, questi grandi, ad esempio, questo è un cappuccino, poi, abbiamo anche, giusto, per aiutare, vabbè, questi sono i prodotti del benessere, che è sempre volantino, che ci spiega, ci fa vedere cosa ci sono, e sono, la maggior parte, sono addirittura, tutti vegani, i frullati, poi ci sono questi, che sono gli integratori, adesso vi faccio vedere, in più sempre sui frullati, abbiamo anche un ricettario, per chi vuole sbizzarrensi, in cui ci sono proprio, le ricette, le quantità, ed è fantastico, poi andiamo avanti, dei integratori, c'è questo, che ad esempio, della vita, che io d'estate, non uso molto, ma di scuola, lo prendo tutte le mattine, perché studiando anche molto, ti aiuta la vita, e questo è stato l'anno prendendo, in cui avevo sofferto, meno di raffreddore, perché io di solito, lo soffro tantissimo, anche perché ho difficoltà, soffri il naso, poi c'è questo, che sono degli snack, alla frutta, con anche frutta, ai cereali, ecco, che è anche questo, tipo una berenda, che però non ti fa, cioè, mentre ti aiuta, a tenerti la dieta, poi ci sono, integratori, abbassandoti, si abbassa di niente, non si abbassa, poi ci sono, ad esempio, ci sono alcuni, questi grandi, ad esempio, questo è la recita, un fungo, che fa bene, bla bla bla, per questi, mi farò un video aggiuntivo, con mia madre, o questi, che sono più piccoli, e sempre per aiutarti, tipo questa glucosamina, che ha risparmi muscolari, qua abbiamo anche il caffè, così, che è questo, più piccolo, e poi l'ultimo, anche quello che mi piace di più, a me, sono questi, che sono il cioccolato, ce ne sono, in realtà, anche più tipi, questo, ad esempio, il ciocomazze, questo è il, ciocomun, e ce ne sono tanti altri, poi c'è anche, il, il, moccaccino, il cappuccino, normale, il, il caffè special, eccetera, eccetera, cerco di non disordinar, perché dopo, il sistema io, quindi, cerchiamo di nominare, poi, ci sono altri scatoli, di prodotti da consegnare, però, più o meno, ho detto tutto, quindi, spero che questo video, vi sia piaciuto, se è così, lasciate un mi piace, e iscrivetevi al canale, sotto, vi lascerò, il link, per andare nella snap, e, per le tanite, le mail, non solo mie, ma anche quella di mia madre, in quella, con cui lavora, e il, numero di telefono di mia madre, quello lavorativo, quindi, per qualsiasi informazione, potete chiedereci, mandando un email, sia a me che a lei, mandando un messaggio, telefonandoli, anche per avere appuntamento, proprio reale, o, virtuale, con il computer, che facciamo anche quello, quindi, spero che, questo video vi sia piaciuto, al prossimo video, ciao!